pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati dalla guarigione alla salvezza e il potere della gratitudine ecco due punti decisivi per una vita piena che cogliamo dal brano del vangelo gesù è in cammino verso gerusalemme ed ecco dieci lebrosi che lo invocano ad alta voce gesù maestro abbi pietà di noi non sappiamo nulla di loro sappiamo solo che la sofferenza li ha uniti e li conduce a pregare gesù non rimane indifferente a questo grido appena li vide disse andate a presentarvi ai sacerdoti è un'indicazione paradossale si andava dai sacerdoti del tempio perché ratificassero l'avvenuta guarigione loro cosa fanno si fidano di gesù si incamminano sulla sua parola e lungo il cammino avviene la loro purificazione è un'icona bellissima del cammino di fede e di guarigione cerco il signore mi fido di lui mi lascio guidare dalla sua parola e man mano la vita fiorisce notiamo sono tutti guariti ma uno solo torna indietro lodando dio uno solo cioè legge in profondità ciò che gli è accaduto non si ferma la grazia ricevuta ma torna dall'autore della grazia uno solo cerca gesù cerca una relazione con lui costui si prostra davanti al signore e lo ringrazia abbiamo qui il verbo eucaristein rendere grazie da cui l'eucaristia che è rendimento di grazie per eccellenza dunque uno solo torna a ringraziare a far eucaristia a far comunione con gesù e solo a lui gesù può dire alzati e va la tua fede ti ha salvato tutti sono guariti uno solo è salvato qui si passa dalla guarigione alla salvezza da uno stare bene momentaneo a una pienezza di vita possibile solo in comunione con dio c'è qui un punto importante vedete i miei cari un po come questi lebrosi anche noi cerchiamo dio per tanti motivi specie quando siamo nella sofferenza molti dicono ma lo si cerca solo nel momento del bisogno ma meno male che almeno lo cerchiamo lì il problema semmai quando pensiamo di non averne bisogno perché stiamo bene ora anche noi spesso cerchiamo il signore perché ci risolva un problema perché ci aiuti a guarire da una malattia a liberarci da una schiavitù interiore cosa buona il problema è pensare che quello sia tutto ma è vero che ciò che conta guarire sicuramente importante ci permette di continuare a vivere a poter fare del bene ma basta guarire per vivere una vita piena per andare oltre la morte è vero che basta superare un problema ma non ne affronteremo forse altri magari di più seri conta soltanto superare i problemi o incontrare dio nei problemi cosa buona è sicuramente guarire nel corpo ma molto meglio è salvarsi anima e corpo cosa buona è superare una difficoltà meglio ancora lasciarsi incontrare e amare da dio in quella difficoltà vi sono persone sane che sono purtroppo morte dentro che vivono una vita inconsistente e persone che invece magari sono piene di limiti che restano ammalate eppure vivono da salvate piene d'amore vi leggo a tal proposito l'estratto di un messaggio autobiografico di una donna meravigliosa beatificata da poco tempo si chiama Nuccia Tolomeo potete andare su internet e trovare un sitore dedicato con i suoi scritti è veramente una donna meravigliosa da far conoscere e alla quale affidarsi nella preghiera diceva così sono Nuccia non ho mai camminato in tenaretà sono stata colpita da paralisi progressiva deformante per cui tutto il mio corpo è martoriato e contorto soffro molto ma in me debole creatura opera ogni giorno la potenza di dio molti sono coloro che mi vengono a trovare specie giovani e io sono pronta ad ascoltarli ancoraggiarli ad aprire i loro cuori alla speranza a dir loro che dio è amore ai piedi della croce contemplando il crocifisso con amore ho sempre trovato la pace il coraggio di andare avanti guardando le sue piaghe mi sento amata il mio cuore avvolto dalla gioia e dal suo calore e mi sento lusingata di vivere le sue stesse sofferenze perché ho sempre partecipato e partecipo alla sua passione a voi fratelli e sorelle voglio dire offrite con amore tutti i disagi le sofferenze quotidiane non lamentatevi non impregate non ribellatevi ma lodate ringraziate il signore sempre il buio della notte si aprirà alla luce di cristo risorto confidate in lui abbandonatevi alla sua volontà lui sa cosa è bene per voi pregate sempre io mi unisco alle vostre preghiere soprattutto per quanti soffrono nell'anima e nel corpo e non accettano ecco cari fratelli e sorelle una donna che fisicamente non è guarita ma ha vissuto da salvata e qui facciamo un altro passo il secondo punto abbiamo visto che vengono guariti in dieci ma uno solo torna a ringraziare abbiamo qui l'importanza della gratitudine già a metà degli anni 80 la psicologia ha iniziato a interessarsi a questo tema in particolare con le ricerche di robert emmons da lì in avanti ricerche hanno mostrato quanto la gratitudine sia importante per il benessere diminuisce lo stress stimola emozioni positive e di aiuto contro la depressione migliora la qualità del sonno ci rende più ottimisti cos'è a livello umano la gratitudine non è solo un'emozione e al contempo una disposizione dell'animo un atteggiamento che è anche una virtù cioè può essere coltivata che porta fondamentalmente a due cose a riconoscere il buono e il bello che c'è nella vita e soprattutto a riconoscerlo come un dono cioè a riconoscere che molta di questa bellezza proviene da una fonte esterna a me non me la sono conquistata ma mi è stata donata ad iniziare dalla vita stessa qui c'è già un primo punto importante che ci permette di acquisire uno sguardo diverso sulla realtà più bello e più consapevole imparare accogliere il bello che c'è nella mia vita senza dare nulla per scontato se la gratitudine in sé diciamo così dilata l'anima ancor più la dilata e la colma quando la gratitudine si apre a dio quando riguarda il rapporto con lui e anche con gli altri partiamo dal rapporto con dio che è appunto la fonte di ogni dono santa teresa di lisie diceva che la gratitudine verso dio ci attira grazia dopo grazia come l'ebroso invoca il signore viene guarito lo ringrazia e ottiene anche la salvezza perché la gratitudine è porsi davanti a dio in un atteggiamento di apertura di accoglienza accolgo tutto da te e ti ringrazio e questo atteggiamento di gratitudine di lode fa entrare in un circolo d'amore che diventa comunione di vita scambio continuo e dio che generosità infinita amore immenso riversa nel cuore di chi lo accoglie lo ringrazia lo loda sempre più grazie quante volte purtroppo riduciamo la preghiera a un elenco della spesa sempre proiettati su ciò che secondo noi manca per questo spesso siamo avari di gratitudine nervosi esposti alla sfiducia un po invidiosi il beato newman diceva ognuno confronti quanto ha pregato nel momento della prova e quanto ha ringraziato quando le sue preghiere sono state esaudite è vero a volte non è semplice ringraziare perché viviamo momenti difficili dolorosi ma è pur sempre possibile trovare anche in quegli eventi qualcosa per cui ringraziare vi faccio un esempio accaduto a Matthew Henry uno specialista di studi biblici una volta mentre tornava dall'università dove insegnava fu aggredito quella sera egli scrisse questa preghiera ti voglio ringraziare signore in primo luogo perché non sono stato mai aggredito prima in secondo luogo perché hanno portato via il portafoglio ma mi hanno lasciato la vita in terzo luogo perché anche se mi hanno portato via tanto non era molto infine ti voglio ringraziare perché io sono colui che è stato derubato e non colui che ha derubato dunque un buon esercizio per migliorare nella gratitudine è proprio quello di concludere le nostre giornate pregando iniziare a pregare ringraziando per almeno tre cose concrete e per la vita e per quell'incontro fatto e per quella persona che abbiamo accanto e per quell'aiuto ricevuto e per quella difficoltà superata non solo quanto fa bene anche la gratitudine nei confronti degli altri pensate già su di voi quando fate qualcosa e vi viene detto grazie magari con il sorriso ripaga tutta la fatica è come una carezza interiore che ti muove a donarti ancora e magari ancora di più quanto sarebbe bello riscoprire la gratitudine nelle nostre relazioni quotidiane in famiglia in comunità ripeto nulla è scontato tutto è grazia a volte presi dalla routine perdiamo di vista il valore di chi abbiamo accanto e dei gesti ricevuti pensiamo che tutto sia dovuto ma anche un piccolo gesto di servizio da un caffè preparato a un panno stirato a un momento insieme vissuto a un aiuto ricevuto è tempo che l'altra persona ci ha dedicato e vita che ha speso per noi e non c'è paga o compenso che regga ecco perché la gratitudine è qualcosa di semplice ma estremamente profondo e ricco per esercitarci anche qui un primo passo è riscoprire la parola grazie alimentando interiormente sentimenti di vera gratitudine meglio ancora se diciamo grazie per una cosa concreta grazie per questa cosa che hai fatto grazie per questo tempo che mi hai dedicato grazie per la tua presenza accanto a me quindi compiere atti d'amore gesti di servizio mossi dalla gratitudine parole gesti anche semplici capaci però di accendere il cuore la cui eco è eterna cari fratelli e sorelle chiediamo al signore che apra davvero la nostra mente il nostro cuore a riscoprire la bellezza che c'è nella nostra vita e chi è la fonte di tanta bellezza perché entrando in comunione con lui possiamo davvero vivere da salvati e riscoprendo il dono della gratitudine la nostra vita possa fiorire e rifiorire sempre di più che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti